Allora, allora, siamo ritornati finalmente dopo tantissimo tempo su Say No More Sono passati un paio di mesi da quando ho iniziato questa serie e non ho più continuato Ma dovete capire che come ho detto più volte in live e in altri video e tutto Sono impegnato con altre cose e quindi è normale che non sia riuscito a continuare questa fantastica avventura Ma oggi siamo qui per continuare Say No More a vedere come continuerà questa fantastica serie Che ne dite? Uh, sono curioso, sono molto curioso di vedere come va a finire Let's go, allora, let's go Mi ricorderò i tasti? Certo che sì che mi ricorderò i tasti Allora, siamo arrivati qua, mi sembra Siamo arrivati in questa zona qua, noi Ci sono? Certo che ci sono E let's go Abbiamo un cocutrillo, ma vabbè Io ti conosco, tu mi conosci Spero che ho un no, però no, non si può no Vabbè, un po' di noi stiamo parlando con l'altro Siamo arrivati al parco Lei è poco poco incazzata Ma il parco è così strano, sembra molto, non lo so, un liminal space No, non ci sono fai A punto Ma? Ma no Allora vai Vedete, la parola no può aiutare molta gente Ah ecco Con gli Yadesu puoi cambiare idea Puoi far cambiare idea alla gente Perchè quelli saltano? No 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 Oh no Oh no Io non mi piace Io mi piace dire giochi, ma nessuno li piace Oh, veramente? Ok, ma sono abbastanza male Devi essere un vero glottino per... Punimento Arrivato anche i cocodrini di risalve Iadesu Let's get food Yeah I'm so hungry One falafel sandwich, please I'll have a foe And a durum döner But without onions Coming right up Ok, one falafel sandwich Yay One foe Yum One doogum döner Extra onions I... Asked for one without onions Oh Uh Mmm Uh Would you still take it? No Uuuuuh Ok, I understand It's our fault I'll make you a new one Zero onions Ha 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 La parola no può distruggere tutto il mondo That was awesome You really did it, you mad lad How do you feel? I feel I feel Incredible Let's eat Yeah So good Food I love food I love lunch Ha ha Wait a minute You don't have any food Don't you want to eat something? Hey Wasn't your lunchbox stolen earlier today? Right I saw that The supervisor took it Really? I thought it was the manager I saw him with him Shortly before he was fired Wait, he got fired? Wait, you didn't know? By whom? Ha 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 She took the lunchbox Wow, OK, that's it That is it Yeah, that's it Friends, we gotta help our new buddy Let's go back, and get that lunchbox back How? You know how We use The Anna The n-word Sappiamo che la parola n-no-ni è tipo un no you Just a small burger please without onions but what you're like rise with that This is harder than I thought Dancing is now forbidden in the office you need to stop all those sick banging moves right now Ever again I It's It's part of my self-expression And doesn't bother the people around me Doesn't bother the people around you Then it's okay Un'ottima maniera per proprio per dire fuori Tu dici la parola no e allora automaticamente sei sulla ragione I'm closer to the kitchen than you are but I'm lazier No No Make your own damn coffee I'm so bored of making your coffee for you Super combo No ma vabbè ok Yes say it Your puns are bad and you should feel bad sorry so sorry That's good keep going Ok your puns are terrible Well to that I'd say ok Yeah Yeah Up Up Ok, va bene R R 胡 Mark Cucudrillo adesso, ci segue ovunque Va benissim Hey, what's going on? Thank you for asking I'm going to need you to go ahead and stay in bene abbiamo le armi pronte andiamo a sfidare let's go su figuiamo le borsche hey president hm what's this oh hey nerds wait is lunch already over I was so busy being amazing that I forgot to eat this lunch give that back to the intern yeah seriously go back to work no excuse me what was that oh no nothing tell me what did you just say so rude oh hello intern I'm glad you're back early now we can finish our meeting hmm where were we oh yes your evaluation what performance mmm yeah good try intern but again your performance is lacking zero oh no oh no cooperation mmm yadda try harder intern zero three community you need to try harder intern zero ok questa i'm a boss fight un po' strana un po' particolare senator io come on intern harder zero wow hey good to see you I was just about to hit up the arcade and did you just buy lunch where's the lunchbox I made I understand don't worry it was lame anyway Oh no! Oh no! Oh no! Ha 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 ha! Ha ha Okay, okay.. Now, now intern, you don't want to overcharge there! Don't underestimate your power, . Tiotos Uh ha 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 ... ... Eeeeeeeh, ottene energetica. Mi intanto quegli altri lavorano, calmi, tranquilli. Qual è stato? Ehm... Quello altro internista che si lontano il Presidente. Quella notte, guardate. Senti, guardate. What? Sì No Oh Pantale Oh, te Butler aspetta, ¿sabes? El intern ¿Qué? El intern No me equivocas El intern Ok, si lo dijiste Pantale No importa, lo peguen ¿Vas a favor ayude y arreglar por tus cosas? Tu non puoi solo lieci là. Sì, certo. Scusi. Grazie a tutti